Salome Kullama, inizio a Tim Tone Sechilius. Come ti sei? Sono bene, come ti sei? Grazie. Hai competito nel Melodifestival l'anno scorso. E' incredibile. Non ho alcune parole. Quali ha cambiato da ora? Penso che ho avuto più di una confidenza, perché questo anno è stato molto... Penso che l'anno scorso l'anno scorso, era il mio primo anno, che ero, come trans. E questo è stato molto importante trovare la mia vita, in questa nuova vita. E questo anno... Sì, quasi. Ho avuto più di la transizione. Ho avuto più di me, più di l'anno scorso. E la canzone è meglio? Grazie, grazie, grazie. Quindi, la stagione. Dobbiamo parlare di questa stagione, perché questo è... breathtaking, ok? Explica. La stagione è... Allora... 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 Sei il loro vennero questo anno, quindi hai un messaggio a loro? Grazie mille, credo che questa è notizia per me. Wow, ciao! Mi sembra bello. Mi sono molto felice che ti amate la canzone e che ti amate la performance. E mi sicuramente vi farò più di questo. Grazie mille Tone. Grazie mille.